Di solito non rifaccio mai un video perché non è naturale, poi sono pigro e poi comunque non mi va, però in questo caso ho detto perché rinunciare alla possibilità di farmi dei nuovi amici e poi il tema è importante secondo me, volevo parlare di pubblicità occulta che è quella che danneggia il consumatore perché non sa che sta subendo della pubblicità e poi danneggia anche secondo me le imprese concorrenti perché se non c'è la trasparenza per l'accesso alla stessa pubblicità che fanno gli altri la concorrenza è rovinata, la pubblicità dice la legge deve essere veritiera e corretta e la legge vieta qualsiasi tipo di camuffamento di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il destinatario pregiudicandone il comportamento d'acquisto, cosa vuol dire questo dice il TAR? che uno deve sapere che sta subendo della pubblicità, la pubblicità indiretta è vietata se è fonte di confusione, è lecita invece se non causa confusione, la pubblicità deve essere veritiera e corretta, cioè deve essere trasparente, deve essere riconoscibile come tale, cioè tu devi sapere che stai vedendo della pubblicità e ci deve essere scritto anche messaggio promozionale in modo che tu lo sappia. Non deve nascondere quei meccanismi che noi consumatori facciamo partire quando siamo coscienti di essere davanti alla pubblicità perché altrimenti siamo a critici e subiamo un messaggio come se fosse un messaggio amico invece il messaggio pubblicitario deve essere chiaramente evidenziato. I redazionali, i product placement e anche le sponsorizzazioni sono quel tipo di pubblicità lì però sono disciplinate dalla legge, in alcune trasmissioni viene scritto, questa trasmissione potrà contenere informazione pubblicitaria, devono essere riconoscibili insomma agli occhi degli utenti tutti gli intenti pubblicitari, ci sono multe salatissime per chi fa queste infrazioni, l'associazione del garante del consumatore, l'autorità del garante del consumatore non ci va molto leggera e anche le aziende non ci vanno molto leggeri perché a quest'ultima in caso di recidiva potrebbe essere impedita, inibita anche l'attività, lo dice la legge. Ma perché ho parlato così tanto? Perché faccio un esempio, quando un casco durante una trasmissione motociclistica di MotoGP viene mostrato con un logo insolitamente gigante rispetto al mercato con la scusa di presentarlo, sempre con gli stessi piloti, si ravvisa pubblicità occulta se non dici che stai facendo pubblicità. Perché dico questo? Perché a volte viene chiesto di coprire i loghi. Mediaset è un gruppo editoriale molto attento a queste cose, io stesso sono stato ospite di una trasmissione e un solerte assistente di studio è venuto a ritagliare un pezzo di adesivo e l'ho messo sull'animale che avevo sull'Apolo, un animale, un Apollo tipo questa che copro e potrebbe avere sotto la mia mano un coccodrillo, un gatto, un topo. È successo anche Domenica dove c'era Temporali che aveva una A con una stellina ed è stata coperta, è stata adesivata. Però non accade con altri marchi, con alcuni marchi accade con altri no. Ad un pilota, un giornalista media, se ti ero presente, chiese di coprire il logo per non far vedere la marca del casco e non creare paranoie. Io l'ho registrato quel video, ce l'ho con me. Mentre in altri casi quel video che vedete in televisione, questo non è accaduto. Con altri marchi non accade. Per esempio un signore con la barba ha mostrato in bella vista questi marchi enormi di questi caschi e di questi piloti. Invece un altro tester, sempre con la barba, un po' più magro, prova le moto ed ha in bella vista abbigliamento, caschi, li mette nei bauletti, li toglie dai bauletti e si vedono sempre i marchi. Strano queste coincidenze. E poi vengono nominati i libri di certi scrittori con e senza barba, senza la scritta messaggio promozionale. Io volevo sapere perché. Potete verificare queste cose, io li ho registrati a queste trasmissioni, quindi dovreste reperirle anche voi. Poi ci sono anche dei giornalisti che hanno già dei richiami all'ordine per questo tipo di attività, però continuano a lavorare liberamente, ricadendo nello stesso rizietto, ma quello poi è un altro discorso. Io volevo capire perché dopo che è successo un po' di rivolta il garante non sta più attento. L'ultima aberrazione è andata in onda nel caso della pubblicità occulta ad una scuola di guida molto importante, gestita da un pilota molto bravo, con degli istruttori federali molto bravi. Durante la trasmissione di Italia 1 si parlava di questa giornata della sicurezza, io ho chiamato questa scuola, ma non mi è sembrato che ci fosse una giornata della sicurezza. Non veniva spiegato che c'erano dei corsi come tutti gli altri in televisione, dei corsi di guida su strada e di guida in pista. Io chiedevo, ma la sicurezza? No, no, c'è il corso di guida in pista. Ma la giornata della sicurezza? No, c'è il corso di guida su strada. Nella telefonata se uno poi, se ci sarà occasione, ve lo farò sentire. In realtà non potrei, come sapete, pubblicare la registrazione di una telefonata. Insomma, questo corso si paga e in televisione non è stato detto. E non viene detto in televisione che uno degli istruttori è praticamente uno dei due conduttori della trasmissione della MotoGP. Viene detto anche al telefono di andare sul sito di questa scuola, di cui allegherò magari un pre-screen se serve, però non viene detto che uno di quegli istruttori è lo stesso conduttore di Italia 1. Io volevo sapere come mai per altre scuole di guida non c'è stata questa possibilità di beneficiare di questo tipo di pubblicità in un orario così importante con tantissimi spettatori all'interno di una trasmissione della MotoGP. Che tipo di favore c'è stato? Cosa manca a queste scuole per non avere questi diritti? Non hanno istruttori abbastanza bravi? Non fanno un lavoro altrettanto buono? Come mai non c'è stata la scritta messaggio promozionale durante la MotoGP? Chi ne ha tratto vantaggio da questa cosa? Publitalia? Cioè ci sono delle persone a Publitalia che fanno la pubblicità senza scriverlo? Oppure ci sono delle persone a Mediaset che vendono la pubblicità per conto di Publitalia ma non lo dicono? Sono coinvolte nelle attività che pubblicizzano? Come funziona realmente? Qualcuno può spiegarmi questa cosa? Qualcuno può fare qualcosa? Come mai una grande azienda che è sempre molto attenta a questo tipo di cose consente questo? Come mai dei giornalisti e anche altri giornalisti che stanno dietro al microfono davanti a milioni di italiani si prestano a questa cosa qui? È un regalo? Hanno così poco rispetto per chi sta dall'altra parte dello schermo da doverli amministrare così tanta pubblicità in modo palese e anche in modo così occulto? Così per sapere? Per sapere. Tempo fa un giornalista Mediaset su Twitter, ce l'ho anche quel titolo, lo tengo gelosamente, lo conservo genosamente, aveva scritto che smarchettavo con i caschi e questo solo per avere un banner, fra l'altro vecchio ma regolarmente fatturato. L'unico banner del mio sito era fatturato, se quella era una marchetta questa che cos'è? Vabbè, volevo magari semmai si voleva occupare di questa cosa, così, anche se non... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.